Allora, ho detto innanzitutto chi erano le persone che abitavano, la popolazione, che viene semplicemente raccontata come italiani, sloveni, croati. In realtà erano persone che facevano gli stessi mestieri, lavoravano nei campi o nelle manifatture tabacchi, eccetera, che spesso si sposavano tra di loro, non c'erano motivi particolari. E l'unica differenza è che in casa uno parlava soprattutto croato e l'altro parlava soprattutto italiano. Guido Giacometti, rappresentante toscano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, oggi a Cortona per ricordare le vittime delle foibe nel giorno del ricordo. Una conferenza pubblica cura appunto dell'associazione e a cui ha partecipato anche l'Istituto Scolastico Superiore Luca Signorelli. Ho cercato di spiegare cosa fossero l'impatto delle foibe che andava al di là del solo perdere il familiare, il figlio, ma la sparizione, il non poter elaborare il lutto quando si fa un funerale o si ha una tomba. E poi due parole anche sull'esodo. La gente che ha lasciato tutto, un benessere, una storia, una tradizione, una casa. Mio nonno aveva costruito metà della casa e è dovuta andare via perché è oppresso da questo regime comunista, andando verso l'ignoto, l'ignoto che si è rivelato duro per molto tempo. Gente che si è, famiglie separate, il figlio che è andato in Australia, i genitori. Quindi la situazione è stata veramente più sempre. Sì, è una giornata molto importante, peraltro la legge del 2004 ha istituito questo giorno del ricordo, per questo ringrazio l'amministrazione comunale e la persona evidentemente di Francesca Testi per aver organizzato questa bellissima giornata con la presenza degli studenti, dei docenti, per non dimenticare. Per troppo tempo le foibie sono rimaste sconosciute a molti, oggi se ne sta parlando e questo è un significato importante che ci deve far riflettere in un momento storico anche particolare. Sì, ringrazio l'assessore a Testi per l'organizzazione di questa giornata, giornata come questa, al pari della giornata della memoria, sono importantissime per tramandare e far conoscere ai nostri ragazzi quello che l'uomo è stato in grado di fare, per passare il testimone a loro e far sì che queste atrocità non accadano più. Purtroppo ancora oggi in Europa vediamo atrocità simili, perché viviamo in un periodo di guerra e quindi credo che queste occasioni siano molto utili e indispensabili per poter riuscire a creare una società migliore.